Gesù, quando va al cielo, gli porta al Padre un regalo. Avete pensato a questo? Qual è il regalo che Gesù porta al Padre? Le sue piaghe. E quando va dal Padre, gli dice al Padre, guarda Padre, questo è il prezzo del perdono che tu dai. E quando il Padre guarda le piaghe di Gesù, ci perdona sempre. Non perché noi siamo buoni, no, perché Lui ha pagato per noi. Guardando le piaghe di Gesù, il Padre diventa più misericordioso, più grande. Questo è il lavoro che Gesù fa sempre, ha spiegato Papa Francesco e i tantissimi fedeli radunati in Piazza San Pietro per la recita della Regina Cieli. Dio guarda il nostro peccato e lo perdona. Così il Papa ha spiegato il senso della festa che oggi in Italia e in altri paesi celebra l'ascensione di Gesù al cielo, avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua. Andate, o meglio partite, ha aggiunto, è la parola chiave della festa di oggi. Gesù parte verso il Padre e comanda i discepoli di partire verso il mondo. Ma non si tratta di una separazione, perché Egli rimane per sempre con noi, in una forma nuova. Il Signore è vicino a noi e è qui in piazza. Voi credete questo? Ha chiesto ai fedeli. Dopo la recita della Regina Cieli, il Papa ha ricordato che oggi si celebra la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, sul tema della comunicazione al servizio della cultura dell'incontro. Preghiamo, ha aggiunto, affinché la comunicazione in ogni sua forma sia effettivamente al servizio dell'incontro tra le persone, le comunità, le nazioni. Un incontro fondato sul rispetto e sull'ascolto reciproco. Papa Francesco ha infine parlato della beatificazione, ieri a Colevalenza, di madre Speranza, nata in Spagna, ma fondatrice in Italia delle ancelle e dei figli dell'amore misericordioso. La sua testimonianza ha concluso, aiuti la Chiesa ad annunciare dappertutto, con gesti concreti e quotidiani, l'infinita misericordia del Padre Celeste per ogni persona.